ragazzi buongiorno e benvenuti a milano sono partito questa mattina presto da modena perché oggi finalmente a distanza di circa un anno e mezzo più o meno quasi due dall'ultima volta torno a partecipare a un evento in presenza organizzato da fuji film italia alla instax gallery non so ancora esattamente cosa ci faranno vedere ma solo il fatto di essere qui e non in teleconferenza beh mi rende molto felice e l'evento di oggi ragazzi è per annunciare questa stampantina wireless portatile che si chiama instax link wide che va a stampare sulla pellicola istantanea instax arriverà a fine ottobre a un costo di circa 149 euro ma adesso vado a cercare qualcuno di fuji così ce la facciamo raccontare un pochino meglio bene ragazzi sono qui alla instax gallery con marika di fuji che adesso ci racconterà un po di questa nuova stampantina instax buongiorno a tutti oggi per noi è una giornata molto importante stiamo lanciando la nostra prima stampante di tipo wide quindi una stampante che è in grado di stampare su una sovraficie fotografica molto più ampia e vedete qui in questo momento i colori sono due ash white e poi c'è il mocha gray come potete vedere il design è molto elegante è molto compatta e anche molto leggera con questo supporto è anche possibile posizionarla in verticale e soprattutto la rende anche molto bella da vedere insomma diventa proprio un oggetto di design da mettere anche nel proprio arredamento c'è anche una cinghia che in questo momento non è inserita e che permette di portarla in giro al pulso comunque la leggerezza le consente veramente di portarla ovunque qualche elemento importante 12 secondi per far fuoriuscire la la stampa e 90 secondi per il suo sviluppo quindi un tempo assolutamente molto ridotto per avere nelle vostre mani la foto perfetta dei vostri ricordi altra cosa molto importante di questa stampante sono le numerose funzioni e modalità di cui è dotata tra cui tantissimi template che si possono utilizzare per stampare le vostre foto la possibilità di aggiungere degli adesivi o delle scritte e poi ancora la possibilità di aggiungere un qr code che ha quattro funzioni un link al sito registri un suono un messaggio segreto o addirittura dai appuntamento in un luogo quindi davvero una versatilità incredibile che strizza l'occhio anche un po al mondo business e tra l'altro ragazzi ho provato prima la stampa sono riuscito a cercare a trovare sul cellulare una foto di famiglia ed è venuta molto molto carina al giorno d'oggi molti fanno le foto solo col cellulare e con questa poterle trasformare velocemente ricordi stampati secondo me è un'idea vincente ok sono uscito dall'evento fuji con tanto di borsa di gadget e creta è una maglietta che metterò il più presto ma adesso vado a cercare un posto tranquillo così possiamo fare qualche considerazione in più su questa nuova stampantina ed eccoci qua ragazzi nella splendida cornice del parco del castello sforzesco qui a milano l'evento di fuji almeno per me è finito e quello che vi posso dire che finalmente poter tornare a vedere le persone dal vivo potersi incontrare anziché vedersi solo nelle piccole finestrelle delle conferenze stampa da remoto su zoom è una cosa che mi ha fatto molto piacere venendo al prodotto presentato oggi questa stampante instax wide secondo me ha diversi lati positivi ma anche un paio negativi vediamo intanto i lati positivi intanto è un prodotto portabile è leggero compatto e si può far stare tranquillamente nello zaino o portarsi magari in giro in vacanza e con la batteria integrata non c'è neanche bisogno di dover per forza collegarla alla corrente è molto facile da utilizzare in un secondo si va a collegare all'app per il telefono e dalla app si possono andare a scegliere anche comporre in delle composizioni si possono aggiungere delle scritte delle emoji delle icone dei disegni sopra le foto e in 90 secondi si ha la stampa in mano stampa che è di ottima qualità io ho già una instax mini a casa una instax mini 90 questo è il formato wide ma qui devo dire che rende ancora meglio rispetto a quella che ho io proprio grazie al formato grande giusto per darvi un termine di paragone su questa wide sono andato a stampare due fotografie e queste due semi fotografie corrispondono al formato di una instax mini mentre qua ecco andiamo a prendere un'altra potete vedere chiaramente la differenza di formato colori molto buoni neri intensi buona saturazione buon contrasto insomma una stampa che è bella da vedere ma anche nel caso bella da regalare per quanto riguarda i lati negativi beh secondo me al primo posto c'è il prezzo non tanto il prezzo di acquisto vi ho detto prima costa 150 euro 149 euro e 99 150 ma quanto più per la gestione dell'intero prodotto il costo di gestione di queste stampe dato che la cartuccia che contiene 10 di queste instax wide di queste stampe instax wide ha un costo di circa un euro e mezzo se non ricordo male non vorrei dire una cavolata comunque circa un euro e trenta un euro e mezzo a stampa che non è poco se pensiamo che con un qualsiasi servizio di stampa online possiamo stampare le nostre fotografie in formati anche più grandi in già un 10 per 15 un 13 per 19 con 13 centesimi 20 centesimi e l'altro lato negativo è che al momento è compatibile solo con i cellulari sia ios che android e per quanto riguarda le fotocamere soltanto con la xs 10 in realtà mi è venuto in mente che indipendentemente dal produttore se la vostra fotocamera ha la possibilità di inviare foto al cellulare si può fare una sorta di triangolazione quindi fotocamera cellulare cellulare stampante instax però volendo utilizzare la comunicazione nativa da fotocamera a stampante instax in questo momento è possibile solo con la xs 10 comunque al di là di tutto a me il prodotto è piaciuto perché l'idea di poter trasformare le foto che abbiamo solo sul cellulare come tutti in ricordi stampati in circa una novantina di secondi e stampe di questa qualità secondo me è una cosa vincente per riavvicinare magari buona parte delle persone o comunque le persone in generale alla fotografia stampata trasformare quelle che sono solo immagini virtuali che abbiamo sul telefono in qualcosa di fisico da toccare e da condividere detto questo ragazzi io ringrazio nuovamente fuji per l'invito spero che questo sia solo il primo di tanti altri eventi di persona in cui portarvi con me a provare tutte le novità se il video vi è piaciuto lasciatemi un like condividetelo fatemi sapere che cosa ne pensate di questa instax mini wide in un commento qua sotto e noi ci vediamo alla prossima ciao